È un mondo, è il nostro passato, noi non possiamo capire la storia del passato se prescindiamo, ha ragione Roberto, se prescindiamo da questo. Allora se ci sono dei luoghi nei quali noi possiamo ricapire o essere aiutati a ricapire, beh vale la pena almeno impegnarsi in quella direzione. Grazie a tutti.